Ho sempre ballato. Era l'unico modo per esprimermi. La danza è bellezza. La danza è eleganza. La danza è grazia. La danza è vita. Ma soprattutto la danza è libertà. Hai mai pensato a cosa significhi libertà per te. Libertà di parola, libertà di pensiero, libertà di scelta, libertà di movimento. Cos'è la libertà per me? La libertà è un diritto. La libertà è volontà. La libertà è un sentimento. La libertà è un'emozione. Ed io ballo il nome di tutte le donne che meritano la libertà in tutte le sue forme. Perché sono ancora troppe a non averne alcuna.